L'errore fatale dei governi di sinistra in questi anni, che si sono succeduti in Italia, Monti, Letta, Renzi, è di aver dato un devastante messaggio all'Africa dolente. Il messaggio lo sposta, il promo che i governi di sinistra italiani hanno fatto all'Africa è stato quello di dire venite, c'è posto per tutti. Questo messaggio è stato devastante. Da lì è cominciata l'Italia dei campi profughi e ora tornare indietro sarà difficilissimo.